Franco Spadaccia, che non necessita di altre presentazioni, ottima mi sembra l'affluenza rispetto a quello che si temeva. È comunque una testimonianza importante, la volontà di andare avanti su una cosa difficilissima che anche per la complicità dell'informazione italiana e per l'assenza di dibattito, gravissima dopo il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, bisogna continuare a portare avanti senza scoraggiarsi, perché la riforma della giustizia, perché di questo si tratta non solo dell'amnestia, l'amnestia è semplicemente una scossa d'avvio della riforma della giustizia, è una cosa troppo importante per il sistema produttivo e per il sistema politico italiano nel suo complesso, un paese in cui la giustizia non funziona è un paese necessariamente in crisi, necessariamente destinato a una crisi sempre più grave, quindi questa per eccellenza è la riforma delle riforme che bisogna fare e affrontare e ci troviamo di fronte a un muro di demagogia, di emotività, di emotività sbagliata perché si guarda la superficie dei fenomeni invece di guardare ai fenomeni, per esempio nei giorni scorsi non a caso il giorno dopo il provvedimento tampone del Ministro della giustizia e pochi giorni prima della marcia per l'amnestia è stato utilizzato in maniera vergognosa questo caso assolutamente rilevante del detenuto che non è rientrato da un permesso. Il giudice di sorveglianza Margara che negli anni 70 ho conosciuto quando sono andato in galera per l'aborto, mi diceva che l'effetto della riforma come quella della legge Gozzini non si può misurare su un singolo episodio, ma si misura sulle statistiche e quando le statistiche dicono che il 97, 98, 99% in alcuni casi, la gente torna dai permessi e a questo 97, 98, 99% e non al singolo caso, significa che la riforma funziona, ma quello che bisogna capire è che l'amnestia deve essere portata avanti insieme alla riforma della Bossi-Fini, alla riforma della Fini-Giovanardi, alla riforma dell'ex Cirielli, se non si incide sulla legge criminogene, sul codice penale, sul codice di procedura penale, se non si incide, se non si riesce a realizzare progressi più brevi, se non si riduce la quantità impressionante e l'incidenza impressionante della carcerazione preventiva nelle carceri italiane, evidentemente è questo complesso di riforme che noi ci stiamo battendo per portare avanti. Grazie Gianfranco Spadaccia. Paolo Isos, segretario di Radicali Roma. Ciao a Liberi TV, una giornata bellissima direi, un corteo entusiasta per chiedere l'amnestia, l'indulto, per chiedere alle istituzioni che intervengano, sollecitate a più riprese da da chiunque, chiunque passi per una nostra proposta, dice che non ci sono ragioni per non concedere l'amnestia. Adesso abbiamo iniziato la marcia da Piazza San Pietro perché il Papa stesso è stato il primo a fare delle riforme nel suo Stato che hanno superato le nostre. Ci arriva la notizia che Putin in maniera quanto pubblicitaria, anche lui ha già concesso un'amnestia. Non è più rinviabile questo provvedimento urgente, questa richiesta del Presidente della Repubblica con un messaggio alle Camere. La nostra Laura Arconti, Presidente dei Radicali Italiani, ha scritto a Presidentessa della Camera, Laura Boldrini, e a quello del Senato per chiedere la stessa cosa, dice ci vorranno mesi, ha risposto a Boldrini. I mesi sono troppi. Ormai siamo a una scadenza di un suicidio alla settimana, in media, siamo a una situazione gravissima che l'Europa ci condanna e siamo in un momento in cui la gente inizia anche a saperle quali sono le condizioni. Se non le sanno, come diceva Pannella oggi, intervistato al Tg2, se non le sanno vuol dire che è un Paese che veramente non esiste più, è un Paese debole sia politicamente, sia civilmente sia socialmente. Adesso con questa marcia siamo passati ovunque nella mattina di Natale, in un modo gioioso, per chiedere diritti umani, è questa la verità, diritti umani e una giustizia giusta per il Paese, non per le persone, soltanto per le persone che sono chiuse in carcere, soltanto per le persone che lavorano nelle carceri. Quella che chiediamo noi è un'amnestia per la Repubblica, per questo Stato, per il nostro Stato. È stato bellissimo vedere anche gli esponenti del partito, tutti uniti, qua compatti, è passato Marino, il sindaco Marino ha fatto tutta la marcia con noi. Sono segnali di un'Italia civile che chiede insieme a noi la giustizia più giusta. La giustizia giusta è basta, senza il più, perché per ora, per noi, non lo è. Grazie a Paolo Izzo.